ciao amici un saluto a tutti a kind of blues puntata numero 22 buon 11 di maggio buon 11 ma la festa lavorare domani la festa della mamma farla pizzo silvia e alla regia mambe e danni naturalmente e quest'oggi abbiamo un grande un grande ospite allora johnny ti volevamo dire che qui c'è la regia che è emozionatissima non so è da ottobre che sta e poi il ferro non ne parliamo io sono praticamente una tua gruppi dunque adesso ci vediamo arriviamo un po dopo nel video però anche noi mentalmente arriviamo un po dopo gianni però insomma facciamo il possibile e iscriveteci in chat naturalmente mi sembra che cioè spero che insomma ci dovrebbe essere la bene c'è ecco la garanzia ci siamo benissimo niente questa puntata insomma beh aspetta intanto ringraziamo ringraziamo e chi è stato con noi la scorsa settimana o no c'era la carboneria questa ben informata che io purtroppo ho visto solo da casa però esatto bravi bravi non c'era malata e niente e questa puntata dicevo è insomma dedicata tutta a johnny e ci farà ascoltare le sue canzoni e praticamente scopriremo un po tutta la sua è biografica proprio si è molto biography è questa puntata quindi partiamo da quando eri molto piccolo ah direi tu si dai tuoi inizio eeeh storyteller esatto esatto bello beh durante durante questa settimana tanta gente ci ha scritto eccetera dunque secondo me ha suscitato molto l'amore l'aspettano i nostri ascoltatori e non sono abituato alla radio visiva infatti adesso ti abituo niente vita nel naso e poi silvia e il tuo look è ispirato sì no io devo mettere un fiore per giorni la rosa perché cioè è così così e quindi omaggi e poi sì primavera un sole che esce almeno sì finalmente sembra un avviso che è il tempo no non siamo proprio delle previsioni siamo in collegamento con www.meteo.it vedere il meteo dopo potremmo dare l'aggiornamento per la domenica piove fino agosto no benissimo niente partiamo con una canzone no fai una canzone così a freddo a freddo a freddo a freddo a freddo si si dopo partiamo in quinta cosa faccio una specie di tradition si chiama 100 hammers una variazione sui soliti temi del blues del folk 100 martelli 100 martelli quella fa semplice ma non è poi così semplice faccio una cosina qualun'è una banca la freddo a freddo a freddo a freddo e aproveite la vita a freddo che si fa cazano un rinno di cosa freddo a freddo a freddo avanza It shines like war Do you hear my band Rumble, Lord Sparks are gonna fly In the summer sun Ain't no bad years I'm there It's gonna shine like mine And it rains like snow and And it shines like gold Do you hear my hammer When it rumble, Lord Do you hear my hammer When it rumble, Lord And I can't I can't No, no It's fun It's amazing Yes These are all parts No Yes So I'm going with these The correction The correction dei ripensamenti quando uno compone grande, complimenti complimenti davvero si qua intanto ci sono già a scaldarla la chat salutano anche su facebook wow che bella voce Johnny scrivono possiamo interagire con il pubblico direttamente bene allora cominciamo o no insomma la domanda che facciamo a tutti cioè com'è iniziata come ti è venuto si si proprio quando hai preso in mano la chitarra magari oppure strimpellando così franici poi dopo avevo la passione della musica come ascolto franici di paese scambi dischi poi abbiamo messo una piccola band locale no quarter facciamo un po' di cover no quarter in quel senso no no quarter era riferito alla canzone io e mio cugino sono alla batteria altri tre ragazzi del paese eravamo proprio però però abbiamo fatto un roncolo come si chiamava la festa dell'arcobaleno che organizzavano al parco al parco di ronco quello te lo ricordi quello te lo ricordi la prima persona ah si e dove erai ho fatto il parco pieno c'era questa specie di pede montana la fanno ancora? no 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 peccato al posto si prestava si 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 poi da fino agli anni 80 tu l'eri chitarrista e fran no no io cantavo e basta ah cantante mia casa ce l'avevo a casa era lì chiusa nella custodia si no no ma era la chitarra classica regalata un classico regalo ragazzino che non avevi apprezzato l'auto no si si ma c'era maledita ma a 15 anni 16 così no mi piaceva cantare seguire i dischi sai si si allora poi mio cugino era molto appassionato sulla batteria cantava anche lui ora le prime cose che hai ascoltato cos'erano? ascoltavamo i zeppelin poi ascoltavamo io ho letto un notice rending allora mi è si si per cui avevo dei dischi anche mio padre di jazz di Ritman Blues quindi ascoltavamo le grandi voci nere mi piacevano no? poi ascoltavamo quelle cose che andavano in quegli anni lì insomma anche un po' di New Wave di Police le prime andate si negli anni 80 c'era Flash quelle cose lì sai che erano cose un po' nuove un po' rivoluzionari si c'era quello duro di Paro con Genesis che storcevano un po' il nano con i Clash e Spistos dopo il liceo sai conoscevo anche ragazzi di Reggio quindi c'era più non c'era più solo la musica della campagna c'era la musica di città l'influenza della città beh poi dove l'hai fatto il liceo? a Reggio? si si il classico il Moro il Moro? scientifico sei uno scienziato sei uno scienziato sei uno scienziato della musica bello non lo so ecco bello questa uno scienziato della musica beh e beh si beh comunque poi hai accennato a diversi generi musicali che effettivamente tu riprendi ci sono ancora oggi c'è roba inglese mi piace molto il blues il soul però nel tuo repertorio ti piace spaziare anche si mi piace un po' tutto ecco mi piacciono certe cose più estreme 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 no estreme nel senso di heavy method però mi piace un po' sei curioso tutta la musica che ha comunque la radice un po' nera così mi piace tutto un po' black si e il passo successivo noi abbiamo scoperto i bmovie lì sono durati poco no però dopo poi abbiamo continuato a suonare insieme c'era caprile Longoni poi c'era un altro ma bmovie ma bmovie cosa voglio e volevo dire sei film di serie papoli se lo sei andato ma non abbiamo fatto neanche un concerto ma diciamo che l'incipit non era cioè bmovie facciamo delle cover dopo ci avevamo chiesto aspetta aveva fatto il comune un libro un libricino con tutte le band presenti nel territorio e le gianne allora volevano un nome perchè avevamo questa formazione che era un po' come successo una volta c'era un una volta non c'era l'altra abbiamo messo bmovie infatti eravamo sotto bmovie c'era elenco un nome è venuto un po' così si facciamo pure pezzi di anche aspetta un pezzo di D facciamo Drive My Car un pezzo di Joe Jackson un pezzo così eravamo un po' volevamo fare un po' i moderni e te scherzo lo facevate no però Gabriele eravate già eh cavolo eravate già comunque una band di un certo tipo io Gabba in acustico che facevamo tutte delle cover così beh non so se ci vedrà però salutiamo Gabba un altro grandissimo cantante chitarrista si la grande magari ci potrà vedere in podcast eh veramente esatto il podcast che ci sarà sicuramente la replica diciamo la puntata registrata su youtube come tutte le settimane se vuoi che procedi con la storia mi sto ricordando ecco ecco vediamo perché dopo c'è stato una parentesi che io mi sono messo a suonare andavo spesso al Vienna Modena dove si organizzavano delle jam session oppure delle salate a tema c'era una specie di house band dove c'era Gigi che suona come adesso la batteria Gigi Bertolini si Gigi Bertolini poi c'era Mel Previtek la chitarra poi c'era Rigo al basso che i suoi gestivano il Vienna la cucina così e lì delle volte si organizzavano delle belle serate a tema tipo non so serata New Orleans vari ospiti ognuno faceva due o tre pezzi serata Elvis che è una delle più belle esiste anche la videocassetta fantastica con le varie tappe Elvis 50 Elvis 60 Elvis 70 i vari ciuffi di Elvis le varie evoluzioni ma ancora avevamo i capelli i ciuffi di Elvis e dunque quella è stata è stata la la tua officina insomma è stato lì che mi sono incontrato con i ragazzi con i musicisti i ragazzi lì di Modena così ti sei fatto le ossa lì praticamente perché ho conosciuto in tramite e andavo a vedere non so le prove dei rocking chairs così che conoscevo bene Graziano Graziano Romani era di Graziano io ho scoperto questa chitarra? si era cioè lui l'aveva data dentro io sono andato a prendere una chitarra e poi dopo avanti una volta ci siamo incontrati dentro cosa fai con la mia chitarra è mia è mia te le hai vendute io ho preso ma io non lo sapevo che bello allora andavo a sentire loro che cioè ci suonava Mel così e allora tramite Graziano dopo ho conosciuto quei ragazzi lì allora mi hanno invitato beh insomma si no lì era molto bello una chitarra fortunata una chitarra fortunata eh no deve essere contento perchè è fortunata no perchè tra l'altro al Vienna organizzavano anche dei concerti un certo spessore io ho visto John Hammond ho visto quell'altro eh sempre un bluesman che non so se è olandese o austriaco Hans Tessink si chiama che è bravissimo poi eh aspetta un altro bluesman inglese adesso non mi ricordo minore però però bravo non mi ricordo neanche più come si chiama e lì proprio ho detto io la mia strada è questa qua beh si in teoria si no perchè oh l'avevi capito anche prima no mi piaceva molto suonare infatti ah cioè da quando hai invitato l'hai mai spesso eh no c'è Albert 3 che avevo detto qui al tata Rovinet esatto Albert 3 è venuto qui qualche puntata fa e ha detto che lui era andato a vedere Grossman si a fabbrico e quando ho visto e lì è stata la scintura no ma sai giravano perchè io ho visto anche il Campo Tocci ho visto i Paladins erodica al Campo Tocci avevo visto anche lì mi sembra Grossman anche lui eh forse quell'altro come si chiama David Bromberg mi sembra cioè giravano comunque che io dico che sai che comunque non sono famosi però è pubblico però gli appassionati ha un musicista ma sempre bene vedere questa gente qua certo alla grande niente andiamo facciamo un altro pezzo andiamo avanti facciamo un uguale cosa ci propone uguale lo stesso di prima se magari qualcuno cantate al contrario cantate al contrario a me è molto stusate no perché continuamente sono ispirato meno accordi faccio meglio sto minimalista esatto esatto pochi ma buoni beh no ma sono sempre quelli la scuola l'ho scritta così per diletto vediamo che adesso viene Doli Well, I had a girl And she leaves downtown And when I dream her hair at night I know, I know we're bound If I had a pistol I should have bit me down If I had a pistol I should have bit me down When I look into my mirror I know, I know we're bound Slow, take me down To his lonesome road Lord, take me down To his lonesome road And if you see me walking You'll know I'm all alone If I was a long road I'd run in my black line If I was a long road I'd run in my black line And if you see me running You'll know I'm nowhere bound And if you see me running And if you see me running And if I was a long road And if you see me running And if you see me running And if you see me running volante volanti mentre lavoravi mentre lavori ti vengono le ispirazioni di quel però qualcosa mi viene magari mi metti due appunti scritti immagino il contenuto no ma mi vengono un po di cose riferite a quelle frasi un po fatte blues non ripetute come questa qua un po diciamo delle... poi magari le metto a posto a caldo dei punti di fermento questo di cosa parlava? non te lo dico è un po' riservato dobbiamo tradurla no 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 si ma ti ho detto quelle solite frasi... non solite lo stile blues che è sempre un po' vago si si può essere triste se lo metti in maniera triste può essere ironico se lo metti in maniera onica mi ricordo poi il boss che diceva che... ecco si mi intendo sempre al triste anche poi il boss mi ricordo che in puntata diceva è perché io ho questo mood cioè mi viene da scrivere triste sempre no ma non ho senso no triste è triste qui scopriamo che è la Bene che ci segue sempre Gasparini, Romani, Graziano Romani e il suo cugino il mondo è piccolo bene, allora adesso ripartiamo a quanti anni eravamo? quando c'era il Viena anni 90 ok ma dopo i b-movie c'è stato un altro evoluzione no, sono anche da solo a volte non mi ricordo no, perché gli anni non mi ricordo mi sono suonato tante volte no, abbiamo suonato ancora ma dopo suonavo un po' con questi ragazzi di Moderna c'era anche Max Marvin Royale Sacks che facevamo e lì ci chiamavamo Kings Day Solomon and the Solomons oh, è pesante, questo nome da ricordare no, poi abbiamo avuto l'apparente che abbiamo suonato anche insieme no, quello non aspetta prima Kings Day Solomon and the Solomons ce l'avevamo io Gigi Bertolini Fausto Coda al basso Mel Previte e Max Marmiroli a Sacks a Sacks esatto, cinque cinque che abbiamo registrato un pezzo di Springsteen una compilation curata da Armando Labianca che si chiamava For You Special Tribute c'erano vari gruppi italiani che facevano pezzi di Springsteen curata da Ernesto De Pascale no, quella di Ernesto De Pascale è un'altra è un'altra curata da Armando Labianca che adesso, penso che lavoro in Rai era un giornalista che aveva fatto anche una fanzine su Springsteen che si chiamava Follow... Tu sei un fan di Springsteen? Sì, da ragazzo da ragazzo al liceo da ragazzo dopo sono arrivato sono andato anche a vederlo due o tre volte sono andato, aspetta sono andato a San Siro nel 1984 poi sono andato a Basilea però dopo mi ero fermato cioè in teoria mi ero fermato a Borri 2.6 però il disco non è che mi piaceva mi piaceva dal vivo però mi piace molto quello del 78-75 questo è il periodo migliore poi mi piace anche adesso con la Roma superiore ecco quelle cose lì mi piace molto dopo dopo un po' ascolta le altre cose dove eravamo ah alla compilation sì, dopo ne hai fatto un'altra qui siamo andati a suonare anche a Roma con si c'era la presentazione di questa compilation dove suonavano dunque c'era dentro c'era Barba Rossa mi sa non ci posso perchè non mi metterà Barba era un po' il giro di Roma no? c'era Barba Rossa poi c'era un altro Conidi mi sembra che era un altro cantatore romano però tutta roba in inglese e anche in italiano Conidi l'ha fatta in italiano una canzone se non mi ricordo poi c'era De Pasquale che suonava cioè cantava suonando poi c'erano degli altri dei gruppi c'erano quelli di Catania ma quindi arrivavano tutta Italia praticamente si si aveva preso poi c'era Fabrizio Poggi e Cichemambo che facciamo un altro pezzo Cichemambo si no che tanto Fabrizio Poggi suona sempre in giro fa del blues così e poi c'era quel gruppo di Catania prodotto dai Re ma adesso non mi ricordo ah non mi ricordo è un gruppo che faceva un genere si folk rock insomma sei stato chiamato anche tu si è stato chiamato ma noi abbiamo fatto un pezzo bell'esperienza in edito così che era venuto abbastanza bene e dopo ci ha suonato dentro anche il tastierista di Uli De V Candy Margois l'abbiamo registrato all'esagono dopo l'hanno missato un must un must che cavolo grande bellissimo bellissimo ho preso 9 mila lire ti ricordi ancora quando eri preso? però soddisfazione arrivati a 90 mila lire no 45 mila lire 9,9,9 da voi i fratelli da un contrato firmato e poi c'era quest'altra compilation invece ah lì era sempre con la stessa band e lì abbiamo fatto un pezzo di band Morrison abbiamo fatto I've Been Working e lì invece quella compilation lì era curata da Ernesto De Pascali che non c'è più che non c'è più che non c'è più è una grande sì che ne aveva fatte due o tre e lì mi sa che avessero suonato anche i Red Spiders con Max e Freddy c'erano anche loro Donnie Romano anche non so se c'era già non ricordo comunque c'erano anche loro c'erano anche loro salutiamo Max salutiamo Max è venuto due volte bis ospite sì sì due volte in puntata anche Max fantastico sì sì è venuto una volta con Donnie Romano e l'altra con Paul Boss esatto e con Umberto e con Umberto Portano anche sì sì ma quindi la chitarra quando hai iniziato a suonarla? no no frequentemente no lì negli anni 90 dopo mi accompagnavo cioè suonavo cantavo suonando la chitarra anche perché si ero più chitarrista cioè ero avevo sempre bisogno di un altro chitarrista adesso invece no sei autodidatta? sì sì sono autodidatta poi la suono la mia cordatura particolare infatti c'è un no no non la suono la cordatura normale me la sono già dimenticata no suono con due soli qua e basta ah è la stessa corda? sol sol le altre suono come la chitarra questo è uno scoop eh? ah bellissimo questo è ma non si può dire cari chitarristi questa è una cosa solo come fare solo Johnny e basta io volevo fare un appello un po' da la Johnny chitarra il chitarrista suona 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 anche normale però di solito i pezzi quelli alcuni famosi sono suonati con la chitarra in sol eh e quindi lì quando si toglie questa corda qua si suona 5 questa la mette in re però dopo suona così due due ma che dà un effetto diverso certo perché quando lui fa okey-ton women lui fa non ci fa due o tre mosse esatto un appello al chitarristico la chitarra da 20.000 euro e roba fotonica cioè alla fine si riesce a fare anche così esatto è tutto creato serve nient'altro ma la seconda cosa io non so neanche cosa stiamo lì a ahahah l'ultimo concerto che ho visto aveva aveva la band assi in testa perché era caduto dalla palma ahahah è vero che era cascata l'età è l'età è un personaggio è un personaggio è un personaggio si 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 vestito leopardato grande sono dei sopravvissuti anche loro eh però però loro possono tutto ah beh certo è vero ti piacciono i rolling stones? molto più dei beatles si eh no si si no che se vuoi scegliere sai sei sempre il drum no no da ragazzo li ascoltavo i beatles li conosco bene però non dopo non ho non ho più non ho più non ho solito talmente tanto che però non se diciamo mi piacciono più gli stones sono più carichi poi certe cose di mio sono belle però non è che mi prendano più gli stones beh sono più sono più vicini è l'istintivo no ma proprio così a livello istintivo mi piacciono più loro bene 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 allora adesso andiamo ecco si allora mettiamo o mettiamo un video allora adesso noi ce l'abbiamo pronto nel cd ascoltiamolo no non son pro sono assorti allora sono assorti non sono la trazza 2 e praticamente ascoltiamo una canzone che ha deciso lei per carlera no però allora uno dei nostri più belli secondo me cioè mad è bellissimo è il disco che hai fatto nel 2000 no no la regina Elisabetta il decennio scorso no è del 2009 c'era già l'euro e questa è blues allora aspetta prima ti spiego lì c'erano no? lì ci sono eh dopo ne parliamo dopo si si dopo ne parliamo dopo parliamo del disco ascoltatevi questo pezzo perchè veramente blues numero 7 sì assapopo siamo tornati qui che c'eravamo abbiamo andato anche a wonder perchè sempre di questo disco è il pezzo preferito del ferro sì mi piace da matti insomma bello veramente soul e soul all green dei pezzi è bello perchè era no però invece lui stava raccontando no perchè subito avevo fatto tipo era un pezzo lento ma si era tipo un pezzo lento dopo invece ci ho aggiunto quel lavoro un po' lento e invece subito era aspetta eh che era e ritorneriava così e ritorneriava così the river was just wine I would die in the drowning in the sweet love of mine assi 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 sembra troppo the ghost of tom joe di stilato dalla faccia è vero più blues e più più elettricità un capolavoro un capolavoro un capolavoro bene bene e niente allora cd mad insomma è stato la tua solita è in tre si il tuo disco diciamo è in tre a 40 anni 40 anni e passa eh beh però dopo tanti live facciamo facciamo coroniamo come voglio io eh no perchè avevo eh avevo registrato allora Iena aveva come sai Iena il fotografo regista chi è Iena adesso ti risponde come chi è Iena Iena no sai lui ha fatto per un ton di tempo anche il fotografo per il tour di dubu poi fa eh anche le sue opere miste fotografia pittura adesso quella diciamo è la sua cosa principale poi ha anche girato qualche cortometraggio aveva fatto assieme a Freddie Emiliana che poi dopo no Emiliana sì 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 no aveva partecipato anche la Renata Tosi Emiliana secondo me no? non c'è no poi dopo ne ha fatto un altro che si chiama If Six Could Be Nine esatto che quello lì che è un thriller dove io faccio l'assassino beh come ti sei provato nei pali della gente c'è anche beta o no? c'è anche beta si ben girato un po' il tamburo un po' sul po' che bello un thriller psicologico tutto incastrato c'è un portometraggio e le musiche sono e le musiche sono no secondo te io ho in mente di fare una cosa tu fai delle cose su quello che ti viene in mente eh e io ho registrato su diciamo un registratorino H7 eh Fostec Stasca non mi ricordo di quelli a tre piste quattro piste che si registra abbastanza bene allora ho registrato venti o trenta strumentali strumentali le sovrincisioni che le ho un po' che a lui gli sono piaciuti molto a Iena li ha usati nel li ha usati nelle versioni e questo? questo è il trailer ah ci volete mandare il trailer nel carro fa già paura così? si si infatti che sarebbe bello vederlo non l'ho visto questo beh infatti no volevamo dire insomma che infatti il disco Mad tra diciamo una canzone e l'altra ci sono sempre questi passaggi strumentali che sono invece tracce alcuni li ho tenuti originali dalla versione in cassetta e sono uscito con Andrea Fontanese di San Bartolomeo a passarli su Cd togliendo il fushio certe cose altri li ho magari ci ho messo sopra delle altre cose delle voci o delle tagliate abbiamo un po' però la base era quella lì dopo avevo due o tre pezzi miei che ce li avevo lì così tipo blues numero 7 si si blues numero 1 ce li avevo già poi altri due o tre pezzi li avevo scritti assieme a un mio amico che si chiama Lorenzo Pornacciari che suonava con me nei famosi b-movie che erano forte che avevamo tentato di di avevamo registrato dei pezzi a Castelfranco io e lui un duo e alcuni sono andati a finire lì che erano 219 e Noeven e allora ci ho quei due lì tutti molto dark questi eh un po' un po' sul triste un po' tristone giusto per rimanere in tema no c'erano quelle due lì e invece un'altra che c'è nel nuovo quella che si chiama Ryder Haller Harry e un'altra che ho fatto assieme a Lorenzo Pornacciari che però però avevamo usato allora il testo di Frankie & Johnny che era un tradizionale del blues invece lì lì ci ho cambiato beh insomma questo MAD è molto molto particolare perché un capolavoro è bello poi parte con con la campagna e secondo me è il top infatti lì era MAD che c'è anche nel film di Eno esatto il 6.59 è bellissimo come titolo anche fantastico veramente abbiamo pubblicato sulla bravo bravo giusto così ce lo andiamo a guardare il trailer per chi non lo conosceva perché sono delle scene molto belle ma tu ammazzi qualcuno lì con lo zocco ammazzo quello con gli occhiali gli do delle zoccolate in testa non era il maggiordomo lui era un altro assassino e io sono diciamo tipo Dexter il killer assoldato e lo farà ammazzato fantastico grande qua ci sono degli host di pubblico live pubblico ah forse ecco a fare le prove ti ho visse salutiamo ciao ragazzi ciao 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 e niente e finchè ci siamo allora io parlerei anche di beta perché noi cerchiamo sempre di parlare diciamo di appoggiare l'economia reggiana facciamo pubblicità ai locali facciamo pubblicità ai locali che fa musica musica si beta è uno dei primi teatro di tamburi insomma anzi forse è l'unico almeno qua intorno qua intorno che fa il concerto cioè tu puoi anche andare la a fare i tuoi pezzi nel senso che la gente viene a sentire il concerto non è il posto dove uno c'è l'ascolto disattento no 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 la gente lì viene per sentire la musica che paglia che stasera suonano non riesco non riesco a parlare non riesco a parlare non riesco a parlare è vero si lì funziona al contrario che magari il locale viene riempito dall'artista proprio esatto lì al contrario se uno non ascolta il concerto di disturbo magari si no viene allontanato lui no poi anche da beta hanno fatto qualche volta dei concerti belli con artisti americani qui chiaramente sai lui è uno spazio talmente piccolino cioè non è che può permettersi però riesce a resistere perché sono vent'anni 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 ah sono quasi vent'anni che lui tutti i venerdì sabati sera fa musica se ci vuole la costanza ragazzi lui è lì da ragazzi se non lo conoscete questo locale ci dovete andare che si è il teatro dei tamburi San Bernhardino San Bernhardino San Bernhardino San Bernhardino San Bernhardino San Bernhardino e poi anche qui intorno c'è poco cioè quest'inverno abbiamo suonato qualche volta lì al By Night che ha aperto eh il posto di vizi poi un altro posto che c'è a Dupociano che si chiama il Villico la taverna del Villico di Cristian che salutiamo che è un nostro amico si 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 e poi cosa c'è ancora qua? i vizi del Pellicano i vizi del Pellicano esatto i vizi del Pellicano fare le cose fatte bene come si deve quel fonico adesso facciamo i complimenti ai di qua che lo vediamo è vero perché a parte blues rock così però quando fa altre cose di musica sono sempre organizzate bene è un posto ci tiene a fare le cose fatte bene è un posto pro però però almeno è un club cioè un vero club esatto e poi anche come location beh si è blues la campagna anzi la pianura padano proprio è molto blu lì lì è bella tu però abiti colino adesso io abito a San Polo però sono di Zurco di Zurco di Zurco vicino a casa del bosco si sulla strada nato sulla statale una frazione una frazione c'è anche la chiesa ah non avete la chiesa? miscredenti proprio non c'è la chiesa non c'è la chiesa che c'è la chiesa che c'è una frazione impossibile impossibile non c'è veramente ecco voi e ti è mancata no no ho fatto il chierichetto hai dei passati da chierichetto c'è Johnny la rosa con chi abbiamo visto con la chierichetta no 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 pure l'incenso portare lavare le mani il prete mi sto immaginando che bello ci passano tutti ci passano tutti però io l'ho fatto quando ero piccola io le donne non potevano però dopo adesso delle bambine le vedo adesso sono ragazzini sono i maschi come sempre sono i maschi e in questo matt tanto per chiudere dopo se lo sentiamo magari un altro pezzo e in questo in questo disco suona con te Gigi Bertolini Gigi Bertolini dopo tutte le altre cose suonate io ecco c'è chitarra acustiche poi avevo questa ventina di brani strumentali che ce li avevo già lì e allora fa perché non facciamo un disco esatto ce li avevo lì erano già pronti ahahah perfetto bene allora adesso ci proponi un altro pezzo adesso facciamo qualcos'altro è sempre vago quando presenta le cose John basso profilo ma adesso questo qua l'ho scritto prima in bagno no sul batter mentre fumava la sigaretta ahahah ahahah allora dai aspetta dai faccio una copra dai così allento faccio che lo faccio sempre un vecchio prano di Sam Cooke changes gonna come sì fantastico alla grande fantastico the voice yes è una cosa più è una cosa è una cosa che la 회era è una cosa è una cosa è una cosa è una cosa che ho è una cosa for long now I think I'm able to carry on it's been a long it's been a long time coming but I know a change gonna come oh yes it will when I go to my dear brother and I say brother help me please and then it winds up knocking me back down on my on my knee so there have been times that I thought I couldn't live for long now I think I'm able to carry on it's been a long long time coming but I know change gonna come long time coming but I know you it's been an atmosphere well, I can tell you I Trump yeah we call Maura for the photo Sì, ci ha fatto una foto che abbiamo pubblicato Ospiti speciali proprio Uno scatto rubato Si chiama così? Sì Ma guardando su internet un po' Un tizio su Johnny Salta fuori un articolo Molto carino che abbiamo trovato Ci racconti chi ha questo Tim Tirelli Ecco Tim Tirelli è un musicista Chitarrista di Modena Super fan degli Zeppelin Ma super di più A livello mondiale È un esperto Sì, ha scritto anche libri su Collezionista esperto Poi chiaramente non gli piacciono solo gli Zeppelin C'è il blues, il rock, il rock ali 70 E casualmente Visto che io lavoro nelle campagne di Massenzatico E di Torni Ci siamo incrociati Perché io non sapevo che abitassi lì Invece si è trasferito lì Ci siamo incrociati Cosa fai qua? Cioè mi ha visto con la tuta Capito? Un pick up Col pick up Non un pick up Il fiorino Il fiat strano Il fiat strano Infatti è Con il fortone sopra Capito? Dice Sei giovane Non contadino Uno come me poi imbocca la stradina lunga e tortuosa Che porta nel posto in riva al mondo E se incroci una macchina che arriva in senso contrario Alla prima piazzola della campagnola Si mette di lato per far posto Il pick up bianco arriva Il guidatore ringrazia la cortesia con un gesto di mano E si ferma alla Ronzoni's Farm Uno come me fa per ripartire Ma con la coda dell'occhio deve essersi accorto Che su quel piccolo pick up bianco Siede la leggenda del blues emiliano Johnny La Rosa E insomma Dopo ha scritto delle belle cose Ha paragonato a musicisti della Louisiana Si ha colorito l'articolo Ma è stato un po' Guarda che dovunque si faccia il tuo nome Tutti dicono Ah beh Ah beh Johnny La Rosa Non La Rosa Cioè la leggenda non l'ha usata a sproposito Perché veramente Speriamo Speriamo Veramente Solo se diventa leggenda Quando si muore Tu prima Prima Ti puoi godere la fama Capito Ma morirò Il cagnazzo Tra l'altro L'avevo letto ricordo Che in fondo invece aveva scritto Se fosse nato nella Louisiana No se fosse nata a New Orleans Avrebbe la band Con lui Tentato non lavorerà Ma sensatico Ridente paese Sempre Sempre un posto molto blues Sì 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 Ce la raccontiamo così Sì sì Bene E il passo successivo A canni siamo adesso Quattro Beh qui siamo A canni siamo arrivati Siamo arrivati già adesso Però tu hai fatto un altro disco Dopo quello lì Si Chiama Go Sì Perché avevo delle cose che avevo scartato Non scartato Delle idee così Però ho detto Va già bene Quelli lì E mettiamo Allora ho detto Beh è un giusto seguito a Mad Sì Così è un po' più rock Perché c'è meno strumentali Cioè l'altro era più Ah facciamo vedere Ce l'avevo qua Poi tra l'altro Dov'è Aspetta Questo qua è Go Perché c'è La foto di Mudd è di Jena Ah questo qua Bellissima Anche quella dietro Lì eravamo a Roots Music Cioè il mio piede Rootsway Il mio piede sinistro lì Mi viene dentro Eravamo a Rootsway Ehm Che aveva suonato E mi aveva fatto delle foto Live E avevo tolto un colore del piede Tra l'altro Giusto che dici Rootsway Ah questo qua mi dice il Goni Intanto faccio vedere Interessante scelta questa foto Beh Bellissima Non è che mi piacciono tanto Le mie foto Cioè io le foto non mi piacciono Ah Allora ci metto un tacchino Visto che qui c'è Cioè uno fa la citazione No Perché c'è la citazione in un brano Che è un traditore Che si chiama Another man done gone Che dice Un altro se n'è andato Con un tacchino in mezzo al mais Like a turkey Allora dai il tacchino Dai il tacchino Non è che non è a caso E allora finché dicevamo Parlavamo appunto del Rootsway Lui si è stato protagonista Insomma Dobbiamo dirlo Sì Lui era headliner Perché c'erano i nobis Sì più star Che vabbè E poi c'era Omar and the Owlers Che lui era il top E poi c'era Sì dopo un altro No Moon da solo Che suonava Blues tradizionale Così c'erano noi Che abbiamo fatto Mezz'oretta Prima di Omar and the Owlers Parla Bello Era in quella Cascina Antica Giù nella bassa A Parma Sì Tra l'altro San Girato C'era Uno sai di quei casi Di quelle corti Mese Bellissime Sì E parliamo Del Rootsway Anche per dire Che insomma È la prossima puntata Il 18 maggio Prossima puntata Viene qui Sarà ospite Qui Antonio Boschi Parleremo Di questo festival Insomma Che ormai da anni Insomma Sì La Fai è stato Molto bravo A portare anche Gli artisti americani Esatto Scusi Proprio Dei blues Me classici Che non sarebbero Mai venuti qua Sennò Ah no Grazie a loro Il discorso Dell'organizzare Queste cose qua Farle bene Sì Loro le fanno bene Però c'è la difficoltà Della pubblicità Soprattutto dei giovani Che sono un po' Cioè giovani giovani Noi siamo già giovani vecchi Un po' così No Di ragazzi che magari Non sono appassionati in musica Che non sono attrati Non sono attrati Da questa cosa Cioè a parte In genere musicale Però Non sono curiosi Adesso infatti La prossima puntata Parleremo di questo E insomma Tutto quello che ci gira attorno Tra l'altro Antonio Ci racconterà benissimo Insomma Tutte le Queste cose Insomma Sì Poi anche le news E se riusciamo E se riusciamo Ci sarà ospite Anche Eddie Del pellicano Ti devi venire Veramente Che l'abbiamo chiamato Però Siamo in trattativa Sì Un po' timido Allora Mi piace stare dietro Le quinte Ma riusciremo E niente Dopo Tra l'altro Giusto che Parliamo di Di pellicano Di Eddie Di pellicano Di Eddie Magari mettiamo Il video Che abbiamo fatto noi Ah la Quella sera Per il festival Così dopo Parliamo anche Diciamo Di quella formazione Lì Perché comunque Esatto Quel trio mitico E Niente È già pronto Beh perfetto Allora Allora Andiamo La regia Le abbiamo sgridate Sembra Sembra Distratti No niente E questo video Qui L'abbiamo fatto Noi È già Andato È già Partito Via 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 di nuovo qui ho detto eccoci là ci mancava oggi ci mancava da soli non abbiamo perso l'ospite cioè si è sentato un altro in pausa sigaretta in pausa sigaretta diciamo ha un pezzo bellissimo oh che emozione sono i tre da soli è vero? è tanto che ne siamo è del novembre bellissimo cover di Tom Waze veramente stupendo ecco Johnny complimenti per veramente il pezzo si e vabbè non ce l'ho sono più bella bella bellissima la tua è veramente bellissima a parte che avevi con te due altri titani titani vero ma come vi siete conosciuti una lettera fa la differenza in questo caso Max lo conosco perché non avevo ancora la patente da sempre no perché con mio cugino a Repover di No Quarter andavamo a sentire delle prove a poviglio di un gruppo che suona audio c'era Max Armando un altro si chiamava Sergio Sergio Salis e la chitarra e loro facevano del blues, del sound and rock e lì ho conosciuto Max il Max il Max adesso lo chiameremo il Max il Max quindi sono 30 30 anni fa forse un po' di più 32 senza veramente storia non ho la patente quindi ce ne ho 49 32-33 anni fa grande beh allora è un'amicizia che dura da sempre poi sai a fase alterna tutti i vari progetti che si aprivano si erano sempre sentiti, visti e poi il Boss invece? lui lo conosco da un bel po' poi dopo ci eravamo un po' persi di vista e ci siamo rivisti qualche anno fa 4-5 anni fa dove suonavano con Umberto Porcaro e Max a Voretto sai lì dopo Voretto in estate che fanno tutti suonavamo anche noi lì con Gigi Bertolini poi c'era Roberto Colombo Enrico Crivellaro era una serata di blues organizzata qui dopo cavolo grande primo regalo e allora c'era rivisti con Paul e dopo lì mi ha detto va vieni su qualche sera quando loro suonavano su lì a Bergonzano eccetera e da nonno Mario da nonno Mario esatto un altro posto che fa suonare da nonno Mario e dopo quando Umberto Porcaro non c'era ha detto dai vieni tu e allora da lì da lì un bel bel Roberto ha anche le sue copie abita a Palermo non è proprio di strada esatto allora puoi darsi l'incente così un po' per divertirci un po' suoniamo abbastanza sì repertorio acustico si blues canta Paul dei pezzi faccio altri pezzi ah lì c'è l'imbarazzo della scena sì sì dopo sai che conosco certe cose Paul le conosce delle altre poi pezzi suoi pezzi che faccia con Umberto e poi alla fine insomma la serattina secondo me sì beh finché ci siamo insomma diciamo anche questa cosa che è a luglio alla festa alla festa della birra a Bagnolo una serata il 14 domenica 14 presa della Bastiglia luglio presa della Bastiglia festa in Francia festa in Francia esatto noi la festeggiiamo a nostro modo perfetto serata rock blues dove ci sarà appunto Gianni con Max e Paul in trio esatto e anche poi c'è Albert Ray ah sì è un certone ragazzi ma poi vi tempesteremo di pubblicità esatto beh è una serata che non si può perdere noi il primo giugno suoniamo da beta ah bene il primo giugno il primo giugno la festa della birra la più piccola festa della birra del mo con della chiave che forte bellissimo bene bene quindi il primo giugno segnate il primo giugno e il 14 luglio il primo giugno deve essere un sabato sì sì perché si sta faremo anche noi pubblicità sui nostri canali così saremo qua in puntata il primo giugno con possiamo dirlo adesso è ufficiale è ufficiale sì primo giugno almeno ci sarà Giorgio Terenziani con un nuovo progetto Fusion Fusion insieme a non sappiamo se ci sarà Alex Tornelli o meno comunque il progetto lo fa con lui e niente quindi beh primo giugno quindi siamo già a posto siamo già a posto pomeriggio sera finito siamo già la giornata è già pina e poi Gianni tra l'altro parlavano di beta io ti sono venuto ad ascoltare una volta che eri da solo e ti filmava la Rai ah sì ah io sì sì ah quella era sempre com'è 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 che c'è la Rai a San Bernardino no perché lì tramite sempre Iena non so come lui era in contatto con questi che della Rai che hanno fatto una serie che è stata trasmessa su Rai3 alle 11 sempre se le cose belle le trasmettono si chiamava Paesaggi con figure no e hanno girato l'Italia dal sud al nord vari paesini i vari posti strani intervistando gente normale cioè operai artisti calciatori boxore cioè un po' di tutto no in più girando cioè immagini musica e parlato non interviste più che altro parole alla ruota libera e allora ieri me l'aveva detto se sono disponibile hai partecipato a questo progetto sì loro erano lì hanno filmato un po' il concerto hanno filmato il localino lì da beta e poi io ho detto le cose come ho detto qua la temora padana il blues nel senso non le solite cose ho cominciato a suonare qui e là questo è un posto qui da beta dove si respira la musica queste cose qua basta ce l'ho registrato su era sì si chiamava comunque adesso non so se lo faranno ancora vedere da qualche parte comunque si chiama erano 5-6 puntati no 4-5 puntati lui si chiama paesaggi con figure paesaggi con figure se capita magari di vederlo tramite internet magari si trova qualcosa perché era fatto molto bene tutte le cose interessanti veramente tra i tre è vero programmano sempre tra vabbè allora c'è da andare a taggalo come si dice taggare chissà se lo mettono nei vocabolari la parola taggare questa la metteranno arriveranno anche a questo hanno messo bersani nel vocabolario quest'anno hanno messo bersani la parola bersani non parliamo di politica perché a parte che un giorno una cosa un giorno un'altra cioè non si capisce no perché ho letto l'elenco delle parole nuove del vocabolario mi è rimasta impressa che è riferito a lui non mi ricordo però la descrizione quindi aggettivo aggettivo sì sì fare tipo una bersanata tipo una cosa un suicidio smacchiare gli leopardi ecco però non me la ricordo è bello bello Gianni ma quindi prossima data primo giugno prima ne hai delle altre vabbè che si ha già il 11 maggio adesso no no cioè il primo giugno poi dopo ho il 2 giugno che suoniamo lì con Gigi Bertolini e K al Tabacchi Blues che fanno una cosa all'aperto sai che adesso si è trasferito lì a Fontana sì un po' più avanti non so se sottosera o sì comunque penso farò lì il parcheggio no è molto blues anche il parcheggio nello spazio che davanti è lo spazio estivo sì dopo non so se ci sono altri gruppi però siamo lì 2 giugno ok e poi per adesso il 14 luglio lì a a Bagnolo a Bagnolo con noi va bene va bene quindi chiamate Gionni per suonare perché lui da in giugno c'è una bassa ma mi ricordo se in giugno c'è qualche caso in giugno sono un po' vuoto ecco via chiamate chiamate ragazzi ciao possiamo fare da tramite sì sì assolutamente no in giugno aspetta ecco ecco Campogagliano Campogagliano alla pausa sì però nella parte della Villa Marvolini esatto dove dove Villa Marvolini dove abbiamo visto Lely Boumaier anche lì fa un suonare sempre però all'aperto all'aperto mi sembra il sabato domenico 16 giugno giù di lì ok c'è anche l'arena lì dietro 9 o la domenica 16 giugno bene bene vedi c'è qualcosa beh comunque dopo li scriveremo anche così insomma bene c'è qualcosa qualche aneddoto qualche aneddoto da raccontarci qualche antidoto come si dice no qualche sei pronto sei pronto sei pronto ma sul tremolo per molti su non va bene capire ho visto allora qual'era questa qual'era questa l'uomo 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 Grazie a tutti 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 suoni suoniamo 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 con suoniamo 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 suoniamo